In accordo con Twitter Italia, Lanci ha programmato corsi di formazione gratuiti rivolti ai comuni che intendano approfondire questa forma di comunicazione. Dopo il primo incontro di Roma, oggi il secondo appuntamento nella sala conferenze del Palazzo delle Arti di Napoli, dedicato ai comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. L'obiettivo è quello di utilizzare al meglio la piattaforma social di Twitter, come canale di comunicazione con i cittadini e le istituzioni su temi di interesse pubblico e locale. Sono sempre più numerose le città italiane che utilizzano piattaforme social per favorire innovative forme di integrazione e comunicazione pubblica. Ed in momenti di formazione come questo, oltre alla teoria, vengono coinvolte anche prassi legati ad esperienze pratiche, con un confronto tra i comuni che già hanno sviluppato una significativa esperienza nel campo. Ed in particolare oggi sono stati esaminati anche vari aspetti e le soluzioni adottate dal Comune di Napoli. Relativamente a Twitter sta cambiando in maniera molto veloce. Ci sono 461 profili ufficiali di Twitter in moltissimi comuni italiani e molti, mi fa piacere sottolinearlo, sono comuni del mezzogiorno e piccoli comuni che credono molto in questa piattaforma. Cosa mi sta cambiando? Il tema naturalmente è quello dell'interattività. Non si tratta solo di far sapere cosa pensa il sindaco, l'amministrazione comunale, ma si tratta attraverso le segnalazioni di capire cosa i cittadini segnalano di servizi o di maggiori necessità rispetto all'amministrazione. E questa è la parte molto importante e più moderna della comunicazione pubblica oggi.